Salve a tutti, in questo video vi mostrerò come fare per nascondere le app sull'icona Allora iniziamo, andiamo su impostazioni, poi andiamo a cliccare sulle app e poi blocco app Ci clicchiamo sopra, mettiamo la password, in questo caso abbiamo scritto qui sopra blocco app e applicazione nascosta Ci clicchiamo su applicazione nascosta, per esempio possiamo cliccare su whatsapp oppure su questo e questo Mettiamo libero, drive, c'è anche una cosa su talk Ora abbiamo 4 leggende nascoste, chiudiamo e andiamo a visualizzare Non ci sono le app nascoste, non ci sono le whatsapp, le tiktok, vedete? Non ce ne sono più Invece se volete rivedere le app nascoste basta mettere i suoi diti sullo schermo e allargarle Vi affaccerà l'interfaccia dove voi mettete la vostra password e poi lì vedete le app nascoste Delle applicazioni nascoste Spero che tutto sia chiaro, un bacio, a presto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti